Noi non dobbiamo dimenticare che a questo gruppo sono stati aggiunti dei ragazzi a gennaio che l'obiettivo mio primario è quello anche di inserirli piano piano perché sono giocatori che vengono da molti mesi in cui non hanno giocato quindi un pochettino di qualcosa stanno pagando chiaramente da questo punto di vista però io sono sconvinto e sono sicuro di poterli mettere a livello degli altri in brevissimo tempo, in poco tempo c'è una grande disponibilità e quindi qualche soluzione, qualche scelta potrebbe essere anche in funzione di questo Sì, questo è un problema però in questo momento la squadra deve, sì, valutiamo anche questo però la squadra deve più trovare delle certezze noi comunque, per noi è una gara importante è una gara importante sotto il profilo di quegli aspetti che vi ho detto prima quindi nell'andare comunque a giocarsi una partita contro un avversario straordinario come la Juventus e nello stesso tempo centrare una prestazione che per noi è fondamentale